ben ritrovati a tutti amici chitarristi quest'oggi chiedo il vostro aiuto umilmente per tentare di debellare una piaga che mi sta letteralmente rovinando l'esistenza se come me molti di voi sono condannati e relegati a stribellare in uno sgabuzzino buio ed umido sappiate che questo problema potrebbe insinuarsi nei potenziometri delle vostre chitarre e dei vostri amplificatori e minarne seriamente l'integrità un minuto di video per farvi capire di cosa sto parlando e la buffa busso e la buffa busso alle porte del bagno io gli dissi di no e da allora tentò dalla tazza del cesso io mi dissi a gridare come fosse uno sesso quindi dalle feriate mentre ero in cucina gira le patate ma ritorno su e dall'alto mi dice non mi vincerai neanche con l'idropulitrice con l'idropulitrice e allora giù di parecchina se non vieni via così tiro giù la malta fina e allora fai di canteggina se anche questa non fa effetto provo la tacchipirina lo sai che la tacchipirina 500 se ne prendi due diventa io ti prego salvaci da questi giorni tieni da parte un posto e segna di sti nomi grazie a tutti